Da sempre appuntamento clou per gli amanti delle due ruote, il salone della moto di Milano quest'anno si è superato, con tantissime novità. Oltre alla Vespa, che rispolvera la sigla primavera e indossa un vestitino più vintage che mai, anche l'MP3 si rifà il trucco, diventando LT, grazie alla carreggiata anteriore allargata, da qui il nome Large Thread, è ora guidabile anche da chi possiede la patente B. Della stessa pasta il Quadro S, tre ruote svizzero rivisto e aggiornato. I motociclisti incalliti saluteranno con piacere l'arrivo della BMW GS 1200 Adventure, versione per giramondo dell'endurona più venduta in Italia e la R90, special da Sapore Retro che festeggia i 90 anni di BMW Motorrad. Infine Harley Davidson presenta le piccoline Street 500 e 750, che strizzano l'occhio alle nuove generazioni di biker con cori bicilindrici raffreddati a liquido. Ciao! 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 Ciao!